Arriva domani, sabato 5 maggio, a Marina dei Cesari, provenendo da Rimini, intorno alle 17, mare permettendo, con il suo trimarano Dragonfly 800, Marco Rossato, 44 anni, vicentino velista da sempre, che ha perso le gambe in un incidente in moto nel 2001 e da allora ha aumentato ancora di più la sua passione per il mare. Sta facendo il Giro d'Italia in solitaria, è partito da Venezia il 22 aprile e arriverà a Genova in settembre con 63 tappe in altrettanti Marina, unico compagno e marinaio in seconda, il fedele cagnolino Matley, obiettivo far conoscere a tutti il suo progetto, Tri Sail for All, dove Tri sta per Trimarano ma anche per Tricolore, promosso dall'associazione sportiva dilettantistica i timonieri sbandati, di cui Rosato è cofondatore e promuovere l'idea che si possono raggiungere grandi mete anche se si ha una disabilità, che non ci sono limiti in mare se si ha professionisti prudenti e attrezzati, mentre a terra ci vuole qualcuno che si preoccupi di eliminare i limiti, che non è giusto negare ai disabili la patente nautica o renderla un'impresa quasi impossibile come oggi è in Italia. Nel suo giro dello stivale Marco verificherà anche l'accessibilità dei porti italiani verso i disabili e ne farà una mappa condivisibile su app e monitorerà le coste italiane invase dalla plastica. A Fano, a Marina dei Cesari, Marco troverà una banchina già attrezzata con una larghezza ed un angolo di inclinazione adatta ai disabili in carrozzella e un team che è già impegnato come lui nella sensibilizzazione sulla difesa del mare dai rifiuti e dalla plastica grazie alla collaborazione con il progetto europeo Clientia Life. In banchina ad accoglierlo anche la Lega Navale di Fano, l'associazione Marinai d'Italia, rappresentanti del comune e gli amici di Animalido che riserveranno coccole speciale per Matley, diventato ormai una vera star sui social.